Di sicuro non è una festa, andremo a Udine giocandoci la possibilità di confrontarci contro un avversario di due categorie superiori, una squadra che ci dà la possibilità di mettere ancora benzina nelle gambe, una partita vera, una partita dove proveremo a fare il massimo per passare il turno, consapevoli delle difficoltà, consapevoli del valore degli avversari, però è una partita vera a tutti gli effetti, è una partita che i ragazzi si sono guadagnati sul campo e se la devono giocare al meglio, motivo per cui poi anche nelle scelte che andrò a fare cercherò di mettere la formazione migliore che possa portarci a fare qualcosa di buono, ed importante. Parto da una situazione che per me non è un sacrificio parlare o dire una parola in più ai calciatori qualora ce ne fosse bisogno. Gori è un attaccante, uno di quei giocatori che si troverà ad avere quella competitività, quella competizione con i compagni di reparto che io sto cercando in tutti i reparti. È successo con Ricciardi che ha alzato bandiera bianca prima ancora di cominciare, rinunciando al voler lottare per un posto in squadra. Mi aspetto che i giocatori che io oggi ho a disposizione accettino tutti, la competitività, la voglia di giocarsi il posto. Sicuramente sarà emozionante per me ritornare in una città contro un club che mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A, che mi ha dato la possibilità di affacciarmi in un mondo che poi sono riuscito a mantenere e a tenere stretto per dieci anni e sarò sempre grato alla famiglia Pozzo, alla città di Udine, ai tifosi perché mi hanno accolto, ero un ragazzino e mi hanno accolto come un figlio, come un fratello, come un compagno di sempre e questa è una cosa che farò fatica a mettere da parte o a dimenticare. È una cosa che ricordo con piacere, con emozione e quindi il fatto poi di tornarci da allenatore è ancora più emozionante sinceramente perché poi da calciatore magari ci torni ed è un qualcosa di diverso perché cambia il ruolo, cambia la prospettiva e sono situazioni diverse. Per quanto riguarda il reparto difensivo c'è da fare ancora un'altra operazione a livello numerico, ci manca ancora un braccetto, possibilmente Mancino. Per quanto riguarda invece il lavoro da fare sulla fase difensiva c'è da lavorare ancora perché oltre al gol l'altra sera abbiamo subito delle situazioni dove possiamo fare decisamente meglio.